Visto che ha le buste in mano, è appena stato a ritirare le buste per la raccolta differenziata, giusto? Sì. Ecco, cosa ne pensa del nuovo calendario? Allora, il nuovo calendario io ancora non l'ho visto, però io differenziata la faccio sempre. È una difficoltà in più, perché cambia di giorno in giorno durante settimane. Il nuovo calendario non lo capisci proprio. Non lo capisci? No. Ha chiesto informazioni? Sì, ho chiesto, però prima era meglio. Tre giorni l'organico era meglio, perché ora fa caldo, l'estate come si fa? L'organico due volte a settimana. L'umido non va bene, secondo me non va bene, soprattutto nel periodo caldo, perché dove ce la mettiamo? Già abbiamo le mini discariche in casa, in questo modo è ancora peggio. È orribile. Assolutamente negativo. Per i bambini? Soprattutto per i pannolini, perché l'indifferenziato una volta a settimana è veramente poco, soprattutto d'estate, quindi non funziona. Signora, cosa ne pensa lei del nuova raccolta porta a porta, del nuovo calendario? Non ne so niente perché non mi è arrivato neanche il volantino. Non è arrivato il nuovo calendario? No. Lei dove abita? San Nicolò. E non è arrivato? No. Io continuo a fare come ho fatto fino adesso. Guardi, noi siamo di San Nicolò, ancora non ci arriva niente. Beh, e l'organico due volte alla settimana? Anche il secco una volta a settimana? Già prima lo contestavo perché avevo sempre delle cose... Cosa ne pensa del nuovo calendario porta a porta? Beh, sicuramente hanno creato un po' di problemi. Per quanto mi riguarda, io e mia nonna di 94 anni, allettata, che utilizzo i pannoloni, hanno ridotto la raccolta dei pannoloni da tre volte a settimana a due. È un bel problema. Non per me, per la mia famiglia, dove dobbiamo mettere questi pannoloni sporchi? Mia madre ha chiamato la Theam, ieri o l'altro ieri, e ha detto che comunque è un problema perché i pannoloni sono sporchi, l'estate arriva, il caldo c'è, la casa puzza. Gli hanno detto signora, li metta nel garage. Evidentemente ci dovremmo organizzare, probabilmente già ho parlato questa mattina con altre persone che hanno questa problematica, faremo un gruppo su Facebook e il terzo scarico settimanale lo faremo noi, non a Carapollo però.